Buongiorno a tutti, sono Stefano Agnesi, socio e amministratore di Media Broker, una società di brokeraggio che ha una lunghissima storia del mercato assicurativo e offre un'attività di consulenza in continuo cambiamento e volta soprattutto all'analisi dei rischi, al risk management e all'innovazione. Supportiamo le aziende da tantissimi anni, da oltre 40 anni, nel nostro DNA c'è questo tipo di professione per cui cerchiamo di essere quanto più possibile vicino ai nostri clienti. Siamo certificati ISO 9000-2015, abbiamo un codice deontologico estremamente interessante, lo potete consultare sul nostro sito, ma la nostra caratteristica principale è avere un importante know-how tecnico che ci permette di dare un'assistenza particolarmente di qualità e creare così un rapporto di alta partnership e fidelizzazione con la clientela. Noi lavoriamo come broker indipendenti sul mercato assicurativo nazionale e internazionale e abbiamo rapporti anche con i corrispondenti Eloits di Londra. Diciamo che la nostra grande mission è quella di creare un rapporto in relazione con il cliente per aiutarlo a crescere e ad accrescere il suo valore aziendale, quale obiettivo primario e strumento di gestione. Nella risposta alle esigenze dei clienti cerchiamo di dare technicalities e semplicità e in modo da avere un impegno costante e una ricerca della qualità che aiuti a semplificare i processi di funzionamento del rapporto col mondo assicurativo. Crediamo fortemente in politiche di supporto ISG e nella progettazione assicurativa. Con impegno, passione e creatività portiamo avanti il nostro lavoro cercando di apportare innovazione e basando le nostre relazioni su rapporti umani con i nostri clienti e con i nostri fornitori in mondo delle assicurazioni. Pertanto la semplicità e la concretezza ci contraddistinguono nel nostro operato quotidiano. Gli obiettivi che ci diamo è mettere al centro sempre e comunque il cliente dando un riferimento importante alla professionalità, al risk management, alla collaborazione in un interscambio pragmatico e trasparente di informazioni e di dati dando rilevanza particolare al capitale umano e quindi alle technicalities di ogni singolo nostro collaboratore. Abbiamo un approccio che ci porta ad aiutare le imprese nella realizzazione dei propri obiettivi in quanto l'imprenditore o il manager deve concentrarsi quotidianamente sul proprio business e noi dobbiamo essere al suo fianco per eliminare l'impatto di eventuali imprevisti. Il Mida come partner dell'impresa condividendo con esso le scelte più delicate in materia di sicurezza, strategia, sviluppo e sostenibilità. Pertanto una corretta gestione dei rischi può trasformare i rischi stessi in un'opportunità, trasformare un potenziale rischio variabile in un costo fisso e liberando così il capitale per investimenti estremamente produttivi e volti alla crescita aziendale. Abbiamo come target tendenzialmente le PMI italiane per cui partiamo dalle piccole e medie aziende fino ad arrivare anche a large corporate per cui aziende più strutturate di stampo manageriale con reti distributive e produttive internazionali. Abbiamo un network di corrispondenti in 120 paesi nel mondo pertanto la polverizzazione del contatto con le subsidiaries non è assolutamente un problema, per noi possiamo raggiungere ovunque aziende e produttività. Abbiamo anche una divisione dedicata alle soluzioni personalizzate per le persone e per i singoli e trattiamo con gli enti pubblici e con associazioni e affiniti. Come operiamo? Noi basiamo la nostra attività prevalentemente su un'attività di risk management per cui una conoscenza dei rischi, l'identificazione, l'analisi, il controllo, la prevenzione, la protezione e a valle poi il confronto con le coperture, una gap analysis con le coperture assicurative esistenti creando così insieme all'imprenditore o al manager una progettazione di un impianto assicurativo e poi in ultima istanza quella del piazzamento sul mercato di riferimento delle polizze che noi condividiamo essere utili per la crescita aziendale, la tutela aziendale. Chiaramente il ciclo produttivo del nostro servizio finisce con la gestione dei sinistri dove la polizza stessa e la copertura assicurativa vedono la loro funzionalità effettiva. Siamo organizzati in tre macro aree, un'area di sviluppo che si occupa prevalentemente dell'analisi dei rischi e utilizza un modello di analisi ripra che poi vedremo in seguito come è strutturato e poi un'area tecnica che si occupa della valutazione e della ricerca delle coperture assicurative sul mercato di riferimento, pertanto una individuazione di quello che è l'impianto assicurativo che deve essere costruito e il reperimento dello stesso sul mercato assicurativo. Dopodiché c'è il day by day, la costruzione del rapporto con un front office e la gestione amministrativa dei contratti nonché quando capitano i sinistri. È chiaro che la centralità del cliente Cifra fa sì che abbiamo scelto una politica di referente unico che si interfacci con il cliente in modo che lo possa conoscere a 360 gradi e con lui dopo condividere strategie ad ampio spettro. Pertanto abbiamo una visione sistemica del rischio in cui l'assicurazione diventa uno strumento di gestione veramente attivo dell'impresa. Intorno all'azienda ruotano una serie di stakeholder che possono essere gestiti e supportati nella gestione con un impianto assicurativo ben studiato e ben analizzato. Il mercato, la tutela degli amministratori, dei dipendenti, l'internazionalizzazione, i clienti, un posizionamento dei prodotti e anche operazioni di co-marketing che possono far sì che il prodotto stesso abbia un valore aggiunto sottolineato ed evidenziato da un impianto assicurativo che ne sia all'altezza. Chiaramente bisogna intervenire pianificando interventi sul programma assicurativo e definire un programma di prevenzione danni. Dopodiché con una gestione corretta del programma assicurativo definito e la gestione anche di aggiornamenti continui del piano si ha una visione circolare del rapporto con il cliente. Abbiamo parlato prima degli strumenti con cui Mida gestisce il rischio e supporta le imprese. Abbiamo Ripra che è l'analisi dei processi produttivi, Stream che è la gestione strategica dei sinistri a valle del quale si va a creare un impianto assicurativo che il referente unico andrà a gestire in un sistema integrato con l'azienda stessa. Ripra che è l'analisi dei processi produttivi prende le analisi di ogni singolo processo dall'acquisto delle materie prime, la produzione, la logistica, la distribuzione, il post vendita, va a verificare quali sono le attività impattate ovvero l'attività o le risorse impegnate per cui macchine o persone, va a vedere quali sono le aree di rischio che impattano o potenzialmente impattano su questi processi e va a vedere quali sono gli effetti dei rischi sul patrimonio, sulle responsabilità da quelle apicali a quelle del prodotto e alle risorse umane. Stream invece è una gestione dei rischi che rispecchia le strategie a breve medio periodo dell'azienda per cui bisogna partire dagli obiettivi, verificare quali sono i rischi, li abbiamo visto prima, condividere una strategia assicurativa e poi decidere il trasferimento, la riduzione o la ritenzione del rischio stesso in modo da individuare assieme un piano assicurativo annuale che vada a tutelare il patrimonio, i fermi di produzione, le responsabilità e le risorse umane e fino ad arrivare anche in ambito commerciale con i crediti. Pertanto come dicevo da ripra, stream e dall'analisi dell'impianto assicurativo in corso si sviluppa lo studio e l'impianto assicurativo che debba essere poi collocato su mercati nazionali e internazionali. Il referente unico è colui che si interfaccia e conosce l'azienda in un flusso circolare di processo che parte dall'analisi fino ad arrivare in ultima istanza ai sinistri, segue tutta la vita dell'impianto assicurativo e tutti i cambiamenti e gli adattamenti che gli impianti assicurativi devono fare seguendo l'analisi e le strategie aziendali. È un sistema integrato in cui il referente unico si interfaccia biologicamente con l'azienda contornato da una serie di partnership esterne che possono implementare la consulenza stessa. Abbiamo una serie chiaramente di prodotti e servizi ma il nostro credo è quello di dare un servizio e una centralità del cliente e soprattutto togliere al decision maker il peso della gestione del rischio. Buonasera a tutti.